ciao buongiorno a tutti volevo vedere con voi brevemente il titolo del nostro listino italiano classe editori è un grafico daily di lungo periodo 10 anni con il mio macd i volumi sul titolo qui vediamo le due medie mobili semplici a 50 periodi la rossa e a 200 la blu allora il titolo chiaramente ha avuto un lungo periodo di downtrend dove da area 1.40 è passato a 0.30 centesimi quello che è importante vedere è che ultimamente abbiamo avuto il prezzo che ha salito sopra le due medie e la 50 ha anche incrociato la 200 quindi è una prima avvisaglia di possibile in versione di trend dico possibile perché al momento ancora il macd pur essendosi avvicinato alla linea dello zero la cosiddetta trigger line non ha non ha ancora non ha ancora tagliato probabilmente il vero segnale rialzista sarà sopra 0 47 e 60 questo livello infatti è un livello di resistenza vediamo sia qui che qui abbiamo avuto proprio una candela di stampa di bassista quindi un livello di resistenza 0 47 60 abbastanza chiaro qui siamo sicuramente però in fase di accumulazione vediamo che le candele verdi hanno avuto tutte volumi importanti per cui sta probabilmente cambiando il trend attenderei comunque per un long di medio lungo periodo appunto questa rottura chi viceversa avesse anticipato fosse già long visto questa candela di ieri con volumi altissimi dove probabilmente c'è stata l'entrata di qualche big andrei a posizionare lo stop loss immediatamente sotto i minimi di ieri quindi in area 0 36 e 30 circa altrimenti per chi non è entrato attenderei sempre come detto la rottura di 0 46 e 70 0 47 diciamo per per scrupolo per poi tenere il trade aperto per un medio lungo periodo perché tutta quest'area che fa da resistenza una volta superata dovrebbe dovrebbe dare lo sfogo della volontà rialzista con target ambiziosi di medio periodo in primis anche area 0 68 vi ringrazio ho Grazie.